Episodio 28 del corso di VBA, oggi voglio parlarvi di due barra, tre parole chiave importanti che possiamo utilizzare. Si tratta della parola chiave exit applicata a sub, exit applicato a for e poi della possibilità di skippare un'iterazione, di saltare un'iterazione del ciclo for. Chi ha già programmato probabilmente sa già cosa intendo, per chi invece non ha esperienza non preoccupatevi ci arriveremo. Si tratta di quello che sarebbe il continue, quindi continuare, che però vediamo in modo diverso utilizzando go to. Quindi go to vuol dire vai a, va bene? Quindi queste sono le due parole chiavi, exit e go to, però vedete che sono due applicazioni diverse per exit e poi go to. Allora, cominciamo innanzitutto molto semplicemente dal exit sub. Se avete visto abbiamo qua sub and sub, che cosa sarà mai exit sub? Exit innanzitutto vuol dire uscire. Di conseguenza se io dico esci sub, sto dicendo non mi interessa quello che succede dopo, tu esci a prescindere. Vi faccio vedere. Allora, innanzitutto andiamo a creare un bel debug.print e io scrivo ciao, vado di F5 e vedete che ho ciao. Il discorso è che se io vado a mettere davanti a questa riga exit sub e vado a fare F5, vedete che non succede niente. Per dimostrarvi che sta effettivamente funzionando, prima di exit sub io scrivo qualcos'altro F5 e vedete che io ottengo solo everl anziché ciao. Quindi questo è l'utilizzo basico, cioè l'effetto che ha. Se io vado a mettere exit sub, non importa cosa c'è dopo, exit sub vuol dire esci dalla macro, ok? Una situazione in cui potrebbe succedere è dietro un if, chiaramente. Quindi succedono diverse cose, ci potrebbe essere un errore o qualsiasi altra situazione in cui noi decidiamo se succede questa cosa, esci dalla macro, non continuare. Va bene? Quindi è molto più probabile che noi potremmo avere un if. Quindi, allora, togliamo qua questo e andiamo a mettere che x è uguale a 10. Vado qua. If x uguale 5, then. E poi qua sotto, and if. Io faccio F5, vedete che arriva il ciao. Se però vado qua a mettere x uguale a 10 ed effettivamente x uguale a 10, F5 non succede niente perché? Perché chiaramente if uguale a 10 sì, exit sub e non ci arriva nemmeno qua a ciao. Quindi questo è il modo più becero e basico per spiegarvi exit sub. Poi chiaramente sta a voi capire quando vi serve utilizzarlo, però funziona così. Una volta che c'è exit sub, tutto ciò che c'è dietro o sotto non è più importante. Va bene? Allo stesso modo, applichiamo lo stesso concetto con il for. Però il for è leggermente diverso rispetto ad exit sub. Vi faccio vedere for, tolgo qua x, x uguale a 1, tu 10, vado a capo, mettiamo col nostro debug print come al solito, debug print di x, andiamo di next, x, F5, ho scritto debug, porca miseria, F5, perfetto. Vedete che abbiamo il nostro for che manda schermo da 1 a 10 e poi c'è il debug print, ciao. Fin qua tutto bene, roba classica che abbiamo già visto. Ora, cosa succede? Se io vado a mettere in questo for un exit for e faccio F5, vedete che ottengo solo ciao. Perché chiaramente? Perché in questo caso, che cosa ho fatto? Già la prima iterazione, ho fatto exit for, quindi è arrivato, x uguale a 1, exit for, è uscito, non ha fatto neanche il debug print, non ha fatto next, mi ha messo solo ciao. La differenza sostanziale con exit sub ed exit for è che exit for esce esclusivamente dal for, quindi se noi diciamo exit for esci dal ciclo for, non uscire da exit sub. Tuttavia, se io dovessi mettere una cosa del genere, exit sub, cancello qua sotto, F5, giustamente ha lo stesso effetto. Exit sub esce sempre a prescindere dalla macro, mentre invece exit for esce esclusivamente dal ciclo for e continua con ciò che c'è dietro. Allo stesso modo vi faccio vedere un funzionamento di exit for, quindi potremmo avere un, andiamo qua, if x uguale a 5, then, ci mettiamo qua, exit for and if, facciamo così per legger meglio, diamo un po' di spazio, e vedete che abbiamo il nostro for e se x è uguale a 5 e prima o poi lo sarà, facciamo exit for, di conseguenza ci printerà da 1 a 4 e poi ci printerà ciao. Provare per credere, F5, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, scusatemi, x uguale a 5, sì, allora esci dal for, continua e mi fai un debug print di ciao. Come vi ho già detto, tutti questi concetti li potete mischiare, quindi if, for, eccetera, eccetera, non è assolutamente un problema. La cosa un po' più complessa o innovativa per quello che abbiamo fatto è il cosiddetto continue. Noi programmatori lo conosciamo come continue, in realtà qua è leggermente diverso. Il discorso che sta dietro a continue è molto semplice. Pensate che x è uguale a 5, giusto? Ma anziché x è uguale a 5 uscire dal for, io voglio semplicemente saltarlo, ok? Quindi pensate a una situazione in cui potremmo avere un for in cui passiamo in rassegna a delle righe. Se la cella è vuota, non ha alcun valore, saltala, ad esempio. Non formattarla, non fare niente. Allo stesso modo, potremmo dire che se x è uguale a 5, devi semplicemente saltarla. Non mi devi uscire da tutto il ciclo, vedete che qua arriva fino a 4 e non va oltre. Quello che vogliamo fare noi è, se trovi 5, o in una situazione più realistica, se trovi una cella vuota, saltala. Quindi fai 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene? Questo è il risultato a cui vogliamo ambire. Come possiamo fare? Utilizziamo quella che è la parola chiave go to. Che non vedremo nel dettaglio in questo corso, perché ci serve in modo ristretto qua. È un qualcosa un po' più avanzata. Però, per citarvela in questa lezione, in modo che sapete che esiste, se poi volete approfondirla per altre circostanze, potete assolutamente farlo, perché già adesso avete un'idea di cosa si è in grado di fare. Ora, go to deve andare direttamente al next. Quindi io vado qua e faccio go to next. Vedete che mi dà rosso? Non posso farlo. Quindi devo andare, anzi provo con f5, vedete mi dà un errore di sintassi. Il mio obiettivo è dire go to, go to vuol dire vai a, e noi vogliamo indicare di andare qui, a next. Ma scritta così, il programma non è in grado di capirlo. Quindi cosa facciamo? Andiamo a creare un costrutto nuovo. Andiamo a dare quella che è una label, un'etichetta ad una riga. Vi faccio vedere. Questo next, noi ci mettiamo qua davanti e scriviamo next line. Potreste scrivere quello che volete perché l'etichetta è praticamente vostra. Ok, vedete? Next line fa riferimento a questa riga. Se io vado qua e scrivo, magari copia e incollo, go to next line. Cosa succede? Innanzitutto facciamo partire. Vado qua, f5, vedete? 1, 2, 3, 4, salta il 5, 6, 7, 8, 9, 10. E poi il ciao finale. A dimostrazione che ha fatto il for, quando x è diventata 5, x uguale 5, sì, vai a next line. Il programma ha cercato un'etichetta di una riga che si chiama next line. La trovata è questa e il due punti indica che questa etichetta fa riferimento a questo. Di conseguenza dice, ah, vado a next line. Eccola qua. Che cosa mi dice questa riga? Non questa. Questa è l'etichetta, ma fa riferimento a questa riga di codice. Che cosa mi dice questa riga di codice? Questa riga di codice mi dice, vai avanti. Di conseguenza avete visto come da qua ho saltato questa parte, sono andato direttamente qui, ho fatto un incremento e quindi il 5 si è perso nell'etere e abbiamo avuto la possibilità di continuare il nostro ciclo. Va bene? È un metodo per chi programma leggermente diverso rispetto a ciò che potreste essere abituati ad usare nella maggior parte dei linguaggi di programmazione, però non è neanche così confusionario. È solo un pelino più lungo a ciò a cui siamo abituati rispetto al continue. Però diciamo che per le persone che arrivano per la prima volta su un linguaggio di programmazione può essere sicuramente qualcosa di intuitivo, perché alla fine il programma va dall'alto al basso, col for fa, tac, poi ricomincia dall'alto e scende, poi ricomincia dall'alto e scende, io ti dico, vai a che riga? A questa riga, la esegue e riparte la capo. Sicuramente ha una sua logica, altrimenti non sarebbe stato inserito. Comunque, questo è il discorso, abbiamo visto exit sub, exit for e go to per andare avanti nel ciclo. Nel prossimo episodio voglio introdurre il concetto degli array. Abbiamo due episodi sugli array, partiamo prima dai fissi e poi dai dinamici. Ci vediamo tra poco. Grazie.